Prima di tutto mi corre l'obbligo di ringraziare questa emettente per lo spazio che concede a me e direttamente concede lo spazio ai lavoratori, di informare l'opinione pubblica dei loro problemi. La questione in questo momento più drammatica che in questi giorni si infiammerà sempre maggiormente e purtroppo a battipaglia si è infiammata anche non solamente in maniera metaforica ma fisicamente con l'incendio dello stabilimento Nappi è la questione dei rifiuti. La legge nazionale demanda alle regioni la individuazione di apposite leggi regionali per quanto riguarda i rifiuti. Questa legge in Campania c'è, è stata più volte ritoccata, l'ultima modifica del 2016 che prevede la soppressione dei consorsi di bacino che erano dei consorsi obbligatori che occupano migliaia di lavoratori e questi consorsi devono essere sostituiti da GEDA, ente d'ambito. Cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che purtroppo in provincia di Salerno i consorsi sono stati commissariati e ormai si avviano verso la fine. Ma l'ente d'ambito che ha eletto due anni fa il proprio presidente ad oggi non è operativo. C'è un eterno bando per la nomina del direttore generale però nei fatti questo non sta avvenendo. Questo determina un clima di precarietà che, come si traduce, non governando completamente il processo di rifiuti che era affidato all'EDA, di fatto i comuni si organizzano in proprio. Il comune di Salerno ha deciso di avvocare a sé, quindi di uscirsene tra virgolette dal consorzio, di avvocare a sé alcune competenze che aveva trasmesso al consorzio di bacino e quindi la raccolta del vetro, della carta, la raccolta della spazzatura e le affidate a chi? A la partecipata Salerno pulita. La normativa regionale impone che questa cosa avvenga anche con il passaggio dei lavoratori. Fino a qui sembrerebbe una soluzione normale. Il problema qual è stato? Che allorquando siamo andati a domandare che FINA facesse il trattamento di fine rapporto dei lavoratori, ci siamo trovati davanti a una situazione di poco sconcertante. Da un lato il consorzio di bacino che ha dichiarato di non avere soldi in cassa e che era l'ente che doveva di fatto accantonarlo, dall'altro lato Salerno pulita che impone per accettare il passaggio dei lavoratori che gli stessi rinuncino ad avere ogni credito in termini di solidarietà, il consorzio di bacino e Salerno pulita. Quindi significa che i lavoratori si vedono in pericolo la loro liquidazione. Questa è una condizione inaccettabile e in questi giorni abbiamo indetto una serie di azioni di lotta. Azioni di lotta che hanno avuto un primo incontro in prefettura, si è tradotto in un nulla di fatto, non sono venuti i comuni, non è venuta la regione Campania che come le dicevo all'inizio è l'ente che deve controllare interamente il processo. Dopodomani il 28 è convocato un nuovo incontro presso il consorzio per sapere la sorte di questi lavoratori. Questa è una condizione drammatica. Stamattina vi do un'ulteriore notizia che con il blocco delle attività allo stir di battipaglia, Salerno in questo momento, i lavoratori del comune di Salerno che ancora raccolgono i rifiuti, hanno avuto problemi, stanno avendo problemi a scaricare i rifiuti raccolti. Quindi c'è un vero e proprio allarme, emergenze e rifiuti che noi come Fiadel avevamo già detto alcuni mesi fa. Purtroppo abbiamo fatto la parte di quelli che hanno gridato nel deserto. Occorre necessariamente che la regione Campania, di cui l'assessore all'ambiente e anche della nostra provincia, l'onorevole Bonavitacola, scenda in campo. Noi abbiamo fatto una richiesta di incontro insieme alla Prefettura, ma questo ad oggi non è avvenuto. Il giorno 28 avremo un nuovo incontro con il Consorzio, dopodiché purtroppo ci scusiamo con gli utenti fin d'ora, ma se dovremo fare delle azioni di lotta è solamente per difendere il nostro posto di lavoro.